Dal mondo Unicop all'Esse Lunga, con Cinzia Bernardini, segretaria generale della Filcams Cigelle Toscana, facciamo il punto sulla grande distribuzione nella nostra regione alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca. Bernardini, la scorsa settimana avete firmato un accordo in Unicop Firenze che proroga l'integrativo. Che significato ha questo accordo e quali sono alcuni punti fondanti? Siamo riusciti, credo anche in maniera positiva, a rinnovare, a prorogare il contratto integrativo, partendo dal fatto che il contratto nazionale prevede che quando ci sono due trattative aperte non si sovrappongono. Siccome il contratto nazionale è in discussione a livello nazionale, siamo riusciti a prorogare il contratto integrativo. È una cosa importante, altre aziende purtroppo in casi analoghi hanno disdettato la contrattazione aziendale, invece credo che con la convinzione e il sostegno dei lavoratori e dell'RSU siamo riusciti a prorogarlo di un anno fino al 31-12 del 2017. Si proroga tutte le normative previste, quindi il salario variabile, l'orario di lavoro, ma più che altro è il concetto, il valore politico è che per un anno non si rimane senza contrattazione integrativa. Sembra scontato, ma non lo è. Sul fronte delle aperture domenicali invece restano le divergenze. Quello che contestiamo a Unicop e Firenze è che ha fatto una scelta importante, politicamente rilevante anche rispetto a quello che pensavano Unicop e Firenze delle domeniche, decidendo in maniera unilaterale di aprire tutte le domeniche. Noi diciamo che anche qua siamo contrari da un punto di vista politico, sociale, culturale, l'abbiamo sempre detto, sempre aperto non paga. Diciamo altresì alla cooperativa che di questi temi un sindacato responsabile come la Filcams ne vuol parlare trovando tutte quelle soluzioni che non portino alla cosa fondamentale, a non peggiorare le condizioni di vita e di lavoro di tante lavoratrici e lavoratori. Non si può pensare che sempre aperto ricada sulle condizioni di lavoro delle persone. Quindi siamo disposti al confronto, nei prossimi giorni abbiamo chiesto un confronto, si terrà questo confronto, vogliamo capire che intenzioni ha Unicop e Firenze. Da Firenze alla costa, la crisi di Unicop Tirreno, quali ripercussioni temete e quali aspettative avete come Filcams? Sono sia timori che aspettative. L'azienda, la cooperativa, tra l'altro la cooperativa storica, una delle più antiche in Italia, non solo in Toscana, da qualche anno aveva delle sofferenze da un punto di vista degli equilibri economici. Siamo arrivati ad un punto che ha visto e vedrà altre grandi cooperative dare una mano a Unicop e Tirreno e questo presupporrà una riorganizzazione. È stato individuato circa dieci giorni fa il nuovo amministratore delegato che dovrebbe venire con pieni poteri rispetto alla riorganizzazione. Quali sono le nostre aspettative e i timori? L'aspettativa è del rilancio di questa azienda, perché io credo che in quell'azienda ci siano lavoratori e lavoratrici che hanno la professionalità e le competenze per rilanciarla. Timori perché quando si parla di riorganizzazione si rischia che anche qui una parte del prezzo da pagare lo debbano pagare i lavoratori. Noi diciamo vogliamo capire qual è il piano industriale, se l'azienda è in queste situazioni, secondo noi una parte consistente è nella responsabilità di chi l'ha gestita, anche qui noi siamo pronti a fare la nostra parte, la trattativa è naturalmente nazionale, ma siccome in Toscana Unicop e Tirreno è presente in tante province con tanti negozi e tanti lavoratori, la Filcams Toscana e le Filcams territoriali faranno la loro parte. Capitolo S. Lunga, c'è stata la scomparsa di Caprotti, è stato aperto il suo testamento, per un sindacato come voi cosa può cambiare in questa nuova fase con S. Lunga? S. Lunga è l'azienda più importante del commercio di tutta Italia, la scomparsa del suo fondatore è un fatto assolutamente rilevante. Noi quello che auspichiamo è la continuità aziendale e che questa azienda continui a essere, al di là dei rapporti difficoltosi che spesso ha avuto con le organizzazioni sindacali ma soprattutto con i lavoratori, che continui a essere quell'azienda solida che fa sviluppo, che fa investimenti e che fa assunzioni e che in questi anni di crisi è quella che meglio ha affrontato la crisi. Il nostro rapporto, il rapporto della Filcams con S. Lunga è sempre stato un rapporto che ha visto anche contrapporci, ma anche fare accordi come l'ultimo sulle aperture domenicali. Quello che ci auspichiamo è che il gruppo dirigente rimanga per dare continuità ad azione, perché ci sono tanti lavoratori, 22 mila in Italia ma anche tanti in Toscana. Il nostro auspicio è che continui su questa strada e credo che una nota positiva sia anche quella che si apprende sempre dalla stampa della sterilizzazione per adesso delle procedure che erano iniziate per la vendita del gruppo. Quindi aspettiamo, sperando che non si peggiori un'azienda che oggettivamente, al di là delle relazioni sindacali, da un punto di vista commerciale e economico, è un'azienda solida.